Addio a Tonina Accolla, regista e doppiatore, straordinaria voce di Homer Simpson ed Eddie Murphy, tanto per fare alcuni esempi. È morto oggi a Roma dopo una lunga malattia all'età di 64 anni. Accolla è stato un grande doppiatore italiano, ma anche dialoghista e direttore di doppiaggio di innumerevoli film, oltre che regista teatrale. Rimarrà nella storia la risata inconfondibile di Eddie Murphy o il doppiaggio di Jim Carrey in alcuni film cult come Una settimana d'addio o Ace Ventura. Fra i premi ricevuti, il Nasto d'Argento come miglior doppiaggio vinto nel 1991 per il doppiaggio di Kenneth Branagh in Enrico V.